Il primo colpo in casa con una vittoria non era un'impresa semplicissima, soprattutto in una gara complicata come quella di oggi. Solo pochi secondi ancora di collegamento. Un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronica. Grazie Fabio, alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!